Quando abbiamo iniziato a concepire Iudatinos era il giugno del 2018 e avevamo sicuramente una spensieratezza diversa di quella di adesso. Abbiamo immaginato di confrontarci con un tema globale come l'inquinamento, progettando un'azione artistica in cui venivano coinvolte la poetica e l'arte dei dati di Oriana Persico e Salvatore Iaconesi insieme all'attivismo iperlocale dell'Ecomuseo Mare e Memoria Viva. Adesso, con lo scoppio della pandemia, i temi rilevanti del progetto hanno assunto un'importanza ancora maggiore. I temi di Iudatinos sono il ruolo dei dati nella comunità e quindi abbiamo capito quanto è importante nella società chi gestisce i dati, questo proliferare di dati e quanto sia difficile interpretarli. Come nella cultura sia separata dalla tecnica e quindi abbiamo visto come nella crisi sono gli scienziati, i politici a dover trovare dei rimedi e non la scena culturale e artistica e quanto ci ritroviamo isolati e distanziati anche nel doverci confrontare con temi globali come la pandemia o l'inquinamento. Iudatinos è un'opera d'arte un po' estetica, ossia fatta di dati, che attiva e fa da detonatore per le comunità di Palermo che si occuperanno dell'inquinamento delle acque.